le donne nell'arte sono state per secoli o muse o modelle quando andava bene committenti le cose cambiano con la fine del medioevo quando la maggiore articolazione della società permette ad alcune donne di mostrare il proprio valore al di fuori dell'ambito familiare di quelle attività artistiche considerate prettamente femminili come ricamo christine de pisan è la prima donna a diventare famosa come scrittrice e a sfruttare il suo talento per mantenere se stessa e la famiglia compresa la vecchia madre che si era opposta al marito che voleva farla studiare allestì uno scrittorium con calligrafi rilegatori e miniaturisti capì l'importanza della propria immagine e contro gli stereotipi che dipingono le donne come frivole vanitose nelle miniature dei suoi scritti si fece rappresentare sempre con lo stesso abito azzurro e un vero bianco quasi una divisa da lavoro entrò in polemica con boccaccio e altri contemporanei che dipingevano le donne in modo grottesco e scrisse la città delle dame partendo dai problemi derivati dal suo rimanere vedova senza che il marito le avesse trasmesso notizie degli affari consiglia le donne di rendersi partecipi dell'economia familiare e soprattutto di educarne i propri figli